Vediamo alcuni circuiti in corrente alternata. In realtà quello che vedremo è cosa succede quando in un circuito in corrente alternata abbiamo un resistore, un induttore e un condensatore e cosa succede quando si combinano. Un circuito puramente ohmico contiene soltanto un generatore e resistori. In questo tipo di circuito abbiamo la proporzionalità diretta tra forza elettromotrice alternata e corrente alternata. Volendo possiamo scrivere la forza elettromotrice come V0 valore massimo seno di omega t, la corrente come I massima per seno di omega t, da cui ricaviamo che I0 è uguale a V0 su R. Questo ci fa capire una cosa molto importante, ovvero, osservando anche il grafico, cioè corrente e tensione si annullano negli stessi punti e assumono il proprio valore massimo e minimo negli stessi punti. Questo ci dice che le due grandezze sono in fase, cioè le due funzioni si annullano insieme e giungono insieme ai loro valori massimi e minimi. Vediamo ora il circuito induttivo. Un circuito puramente induttivo presenta un generatore e un induttore che ha resistenza praticamente nulla, in modo tale da avere appunto un circuito puramente induttivo. In questo caso la corrente non è proporzionale alla forza elettromotrice e, come vedremo dal grafico, ha una differenza di fase. Vediamo come si può ottenere la relazione tra forza elettromotrice e corrente o, in generale, le formule che esprimono forza elettromotrice e corrente. Qui dobbiamo sfruttare la legge delle maglie, la seconda legge di Kirchhoff, ricordando che, come avevamo visto in un video precedente nel quale ho parlato di circuito RL, la forza elettromotrice indotta è data da meno L di su dt. Pertanto qui scriveremo che la forza elettromotrice meno L per di su dt è uguale a zero, nient'altro che l'equazione delle maglie, che si traduce nel dire che la somma della forza elettromotrice prodotta dal generatore e della forza elettromotrice autoindotta deve essere nulla. Ora, se la forza elettromotrice la esprimiamo in questo modo, come abbiamo fatto in precedenza, in precedenza ho usato questa espressione, in altri casi ho usato questa espressione poco male. L'importante è sapere che cosa stiamo dicendo. Qui abbiamo il valore massimo e qui abbiamo la funzione seno con l'argomento ωt. Questa è un'equazione differenziale che possiamo esprimere in questo modo. Probabilmente non avete familiarità con le equazioni differenziali, quindi il risultato finale è che la corrente in funzione del tempo è V0 su ωl per il seno di ωt meno pi greco mezzi. Ripeto, in precedenza V0 l'ho chiamata F0. Questo argomento del seno nella formula della corrente ci dice che c'è uno sfasamento rispetto alla forza elettromotrice. questo è il grafico e vediamo che cosa si intende per sfasamento. Il valore massimo della tensione è raggiunto qui, il valore massimo della corrente è raggiunto qui. La distanza in termini di tempo, qui c'è l'asse dei tempi, è espresso da questa relazione ma la differenza tra pi greco su ω e pi greco mezzi su ω è proprio pi greco mezzi. Essendoci il segno meno, diciamo che in un circuito puramente induttivo la corrente ha, rispetto alla forza elettromotrice, una differenza di fase di un quarto di periodo. Ricordo che il periodo è 2 pi greco, quindi pi greco mezzi è un quarto di periodo. Vediamo ora il circuito puramente capacitivo, che come dice il nome contiene un generatore e un condensatore. In questo caso la corrente ha, rispetto alla forza elettromotrice, una differenza di fase di un quarto di periodo, ma questa volta come vedremo sarà in anticipo, si dice. Vediamo il circuito e il grafico. Possiamo scrivere anche qui la legge delle maglie, facendo una premessa. Per quanto riguarda il condensatore, possiamo scrivere che ΔV, in funzione del tempo, è uguale alla carica, che possiamo scriverla in funzione del tempo, diviso C. Questo condensatore è collegato, come vediamo, al generatore. Pertanto questo è uguale alla forza elettromotrice generata dal generatore di corrente alternata. Se da qui ricaviamo la carica, questo ci servirà per scrivere la formula della corrente. Infatti ricordo che la corrente è la quantità di carica in un certo intervallo di tempo. Se utilizziamo valori istantanei dovremo utilizzare la derivata, quindi scriveremo che la corrente è la derivata della carica rispetto al tempo e dovremo sostituire al posto di forza elettromotrice quello che già sappiamo relativamente alla forza elettromotrice. Quindi otterremo che Q è uguale a C per la forza elettromotrice, ma C è una costante e quindi diciamo esce dal segno di derivata e quindi dobbiamo derivare l'espressione della forza elettromotrice rispetto al tempo, che ricordo è il valore massimo V0 o F0 seno di ωt. Facendo il conto, otteniamo ωC, P0 coseno di ωt. Dalla goniometria, dagli angoli associati, sappiamo che coseno Px è uguale al seno di x più pi greco mezzi. Perciò qui dove abbiamo i di t possiamo scrivere ωC, P0 e al posto di coseno di ωt possiamo scrivere seno di ωt più pi greco mezzi. Ecco il motivo per cui si dice che la corrente è in anticipo rispetto alla forza elettromotrice, mentre nel caso induttivo la corrente era in ritardo e lo vediamo qui, qui c'è il picco della forza elettromotrice, qui c'è il picco della corrente che arriva dopo, diciamo così. Nel caso capacitivo il picco della corrente è qui e il picco della tensione tra virgolette arriva dopo di un quarto di periodo. Dobbiamo sempre considerare questa differenza oppure chiaramente questa, qui si sta annullando la corrente e qui si sta annullando la forza elettromotrice. Nel caso L il valore massimo di corrente può essere espresso come V0 fratto ωL. Ricordando la legge di Ohm nel caso resistivo abbiamo visto che I0 è V0 fratto R. Per analogia a questo termine che si misura in Ohm si dà il nome di reattanza induttiva e si indica con la lettera X. Analogamente in questo caso sarà il termine 1 su ωC a prendere il nome di reattanza capacitiva. In pratica la legge di Ohm si trasforma in I0 uguale a P0 fratto XC. Ma 1 su XC è proprio questo ωC. Questo termine pertanto è la reattanza capacitiva. Cosa succede quando tutti questi elementi circuitali vengono messi insieme, cioè quando abbiamo un circuito RLC. Un circuito RLC contiene quindi un generatore, un condensatore, un induttore e un resistore. Se gli elementi sono in serie, come in questo caso, si parla di circuito RLC serie. Si può dimostrare che vale una relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente. Forza elettromotrice efficace è uguale a Z per corrente efficace. Ricorda chiaramente la prima legge di Ohm, ma qui non possiamo usare R perché abbiamo tutti questi elementi. Pertanto questa Z fa le veci della resistenza nel caso del circuito puramente ohmico ed è detta impedenza. si misura chiaramente in Ohm ed è definita in questo modo. Tiene conto chiaramente dei contributi di resistenza, induttanza e capacità. In alcuni testi si utilizza direttamente il concetto di reattanza e quindi si scrive R al quadrato più XL meno XC tutto al quadrato. Qui l'angolo di sfasamento tra corrente e tensione è tale per cui si ottiene questa relazione. La tangente di questo angolo che possiamo indicare con Φ è uguale a XL meno XC fratto R. Ovviamente se voglio determinare l'angolo non farò altro che l'arco tangente di questa quantità. Non costa nulla lasciare un like quindi vi invito a farlo. Nel prossimo video vedremo la condizione di risonanza e un paio di esercizi. Pertanto vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!